Il dato Istat dell'anno scorso diceva che il futuro demografico dell'Italia era a rischio, i decessi superano le nascite, il decremento misura meno un milione di persone l'anno, ma in un paese siciliano i dati non preoccupano e la storia sembra andare diversamente. Termini mi rese a pochi chilometri da Palermo, anno 2019, anni in cui è difficile ottenere o addirittura tenersi un lavoro vero, si diventa maturi veramente tardi e ci si pensa due volte prima di fare un figlio, ma questi dettagli non fanno parte della vita di una famiglia di Termini Merese. Pensate che pochi giorni fa è nata Chloe che ha riunito cinque generazioni, tutte viventi, dalla Trisavola alla Trisnipotina. Andiamoli a conoscere. C'è la Trisavola che ha 78 anni, sette bisnonni, quattro nonni, un'abbondanza di zii e cugini e ovviamente i genitori, Giorgio Elia e Miriam D'Angelo che hanno 23 e 24 anni, felici e stupiti dal clamore della nascita di Chloe. Siamo, come già hanno detto, una specie di Guinness dei primati, un record. Quando lo avete dovuto dire ogni parente? Quanto ci avete impiegato più o meno? Una mezz'oretta. Circa una mezz'ora. Sì. Già, perché il comune di Termini Merese li ha voluti celebrare, aiutare con buoni dispesa farmaceutici e una pergamena particolare che ricuce il percorso di parentela di, pensate, cinque generazioni, tutte viventi, di fatto un Guinness. È la vittoria dell'amore sulle preoccupazioni che attanagliano ognuno di noi in questo periodo storico così difficile. Quando mi hanno cominciato a dire la nonna, la bisnonna, no, i bisnonni sono sette, otto, sì, poi c'è la Trisavola, mi sono fatta prendere tutti gli atti dei nonni e dei bisnonni della Trisavola. I parenti sono felici, la famiglia ha vinto sulle difficoltà della vita, Giorgio però è alla ricerca di un lavoro stabile, ma se uno aspetta le certezze di una vita che certezze non ha, i figli non li farà mai. Così a preoccuparsi è il nonno di appena 42 anni, attenzione, preoccupato, ma entusiasta per la nuova arrivata. Mio figlio è disoccupato, ha la casa da pagare, la luce da pagare, io non lavoro, solo questo piccolo handicap, però per il resto tutti felici e contenti. La Trisavola, capofamiglia più anziano, guarda il futuro della piccola Chloe, protetta anche dal giovane zio, pensate, sette anni. Miriam, ma quanti consigli riceverà? Tanti, siamo tanti, siamo tanti. Cosa si augura per Chloe? Una vita bellissima. E tanti fratellini a questo punto? Tutto, per tutti. Una comunità che risplende festeggia una notizia positiva e vissero felici, contenti e numerosi. Viva la vita! Viva la vita!